gentili telespettatori buona giornata e buon natale oggi 25 dicembre del 2019 quanto versano i parlamentari ai loro partiti ma la domanda ma versano tutti a tutti i partiti e gran parte dei partiti chiedono dei soldi ai loro senatori e parlamentari beh il caso più eclatante è quello del movimento 5 stelle che chiede 2000 euro al mese più 300 euro della piattaforma rossò perché tanti sostenitori del movimento 5 stelle dicono noi siamo gli unici che restituiscono dei soldi ma sarà vero forse restituirli nel senso che loro li danno al movimento 5 stelle il movimento 5 stelle li dà a delle fondazioni a delle cose utili a delle cose cioè questi soldi ritornano nella comunità italiana mentre gli altri partiti ci fanno gli affari loro credo e quindi molti dicono noi siamo gli unici a ridare i soldi è vero in parte anche perché la notizia degli ultimi giorni è che solo 15 parlamentari e senatori del movimento 5 stelle restituiscono i soldi 15 su 317 vuol dire il 5 per cento dei leghisti cioè dei dei grillini in parlamento e in senato restituiscono i soldi il 95 per cento fischietta si gira dall'altra parte nessuno vuole dare 2300 euro al mese quindi non danno nei 300 euro per la piattaforma rosso nei 2000 per il partito ma i deputati senatori ricevono ogni mese 10 12 mila euro netti questo netto perché è un netto attenzione non è un lordo questo netto di 12 mila euro ha incluso indennità varie fondi con cui pagare un portaborse ogni mese riceve tra appunto 10 12 mila euro netti mentre nel i senatori possono ricevere di più del semplice parlamentare deputato che lavora a monticitorio lavora tra virgolette da queste ogni parlamentare senatore deve detrarre mensilmente una quota che deve andare al partito deve andare al partito ogni partito ogni movimento partito ha una sua un suo tariffario si va dalla tariffa massima a quelle a saldo di italia viva 500 euro ma attenzione si pensava che grillini fossero quelli che pagavano di più con i 2300 euro ma c'è chi paga molto di più e c'è chi diceva beh adesso i grillini fuggitivi che vanno alla lega così si risparmieranno i 2300 euro ma è veramente così i grillini fuggitivi risparmieranno 2300 euro no perché la lega è quelli è quello che c'è il senatore il parlamentare leghista è quello che paga di più sapete quanto ben 3000 euro a testa al mese e lo rileva proprio in questi giorni il senatore ugo grassi che è stato il primo fuggitivo dal grillino che è passato alla lega poi hanno seguito anche gli altri gli altri due il giorno dopo e lui dice passando alla lega dovrò restituire al partito ancora più soldi di prima 3000 euro per contribuire alla progressiva restituzione dei 49 milioni di euro cioè il famigerato tesoretto di denaro pubblico che negli anni passati il partito oggi guidato da salvini avrebbe incassato senza averne titolo e il partito si è un po' innervosito la lega si è un po' innervosito come dire ma che caspita vai a dire queste sono cose riservate non cos'è arrivi nella lega chiami i giornali adesso devo restituire 3000 euro gli stanno facendo capire ma forse era meglio che stavi da dove eri no la prima cosa che fa è discredita il suo partito complimenti al senatorone grassi e già dal partito gli hanno subito detto stai attento a quello che dici gli hanno messo un freno e chiamiamola la sua comunicazione no poi segue il partito democratico di nicola zingaretti con 1500 euro al mese poi ci devono aggiungere 500 euro di ulteriore contributo al mese e vanno a 2000 euro esattamente quelli che paga il movimento 5 stelle poi sono i 300 per la piattaforma rosso però sembrerebbe che gli unici a non pagare in parlamento siano proprio i grillini mentre tutti gli altri pagano no è la fiera dell'assurdo no poi tra i democratici ci sono casi dimorosità qualcuno no c'è matteo renzi che nell'ultima parte non ha del prima della scissione non ha pagato molti prima delle elezioni del 4 marzo 2018 corsero a mettersi in pari per sperare in una ricandidatura ma attenzione in forza italia quando sono eletti devono pagare 30.000 euro cioè prima di cominciare a prendere il primo stipendio devono fare un prestito in banca che devono pagare 30.000 euro in un unico pagamento unico pagamento e poi hanno 900 euro al mese come un mutuo 900 euro al mese per tutta la durata della legislatura mentre il partito si fa carico poi dei costi della campagna elettorale a livello nazionale mentre in forza italia in fratelli d'italia cosa succede ecco in fratelli d'italia bisogna versare 1500 euro di cui 500 vengono destinati ad ogni struttura regionale voi sapete che non esiste più il finanziamento ai partiti e quindi i partiti si devono autofinanziare tassando senatori e parlamentari mentre il prezzo più basso lo pagano proprio in italia viva dove ci sono circa 50 parlamentari che sono tutti scissionisti fuggitivi dal pd loro hanno pagano solo 500 euro al mese quindi ma nel prossimo futuro la cifra salirà ovviamente adesso il partito ancora non aveva neanche logo quando l'hanno istituito quindi hanno fatto questo fondo di 50 per 5 sono 25 mila euro al mese di fondo che sta creando il partito di matteo renzi perché le elezioni costano e le campagne elettorali costano e se cade il governo adesso con due mesi di contribuzione 50 mila euro non è che fanno molto anche solo gli alberghi quello che costano gli alberghi mangiare eccetera eccetera immaginate quanto costa una campagna elettorale ma appunto dal partito di renzi fanno sapere che questi costi saliranno in un futuro prossimo i casi di morosità sono sempre più frequenti ma il record è proprio quello del movimento 5 stelle dove il numero dei furbetti come vi dicevo ha raggiunto numeri incredibili quindi vi ricordo pagano del del movimento 5 stelle pagano solo 15 parlamentari su 317 che non sono in regola sui versamenti di 2300 euro al mese anzi è stato alzato a 2200 euro al mese più la piattaforma rosso altri 300 e quindi vanno a 2500 euro al mese di contributo al partito e alla piattaforma e così questa diceria questo mito dove noi grillini siamo gli unici a restituire i soldi non è vero o nel almeno è vero in parte in questo video vi ho raccontato che tutti i parlamentari pagano anche di più dei grillini i grillini sono gli unici che non stanno pagando il loro partito ma attenzione il movimento questi soldi non li tiene per sé o almeno da quello che si sa non li tiene tutti per sé ma la maggior parte credo quasi tutti li destina a non so al fondo per un certo tipo di persone che hanno avuto questo problema l'altro fondo per queste persone che hanno avuto un altro problema ma diciamo che questi soldi ultimamente non vanno ai fondi proprio perché non c'è assolutamente restituzione quindi alla fine quelli che dovevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno sono lì attaccati alle poltrone e allo stipendio mentre quelli che dovevano restituire gli unici soldi sono gli unici che non restituiscono attenzione attenzione tutto il parlamento e senato restituisce dei soldi al partito poi i partiti li tengono per le campagne elettorali il movimento li mette per dei fondi però sta di fatto che il grillino eletto non restituisce i soldi né anche se fossero per il partito anche se non fossero indirizzati a fondi eccetera eccetera i grillini sono gli unici in parlamento che non stanno pagando il loro partito vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata e siamo anche su facebook nella pagina tele italia dove trovate tutti gli stessi video che ci sono su youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate grazie per avermi ascoltato arrivederci